La risposta alla crisi dell'olivicoltura salentina messa in ginocchio dalla xylella fastidiosa è arrivata da Gallipoli. Questa mattina infatti nelle sale del castello Angioino della città bella si è svolto un importante convegno organizzato da Coldiretti, Unaprol e Regione Puglia dal titolo Olio, un valore che non sta più nella borsa, le rilevazioni delle borse merci tra costi reali e prezzi applicati nella grande distribuzione organizzata. Nel corso dell'incontro, che si inserisce nell'ambito di extravergine Gallipoli 2015, è stato sottolineato il valore della produzione olearia per il Salento. Al dibattito, dopo l'introduzione del sindaco di Gallipoli, Francesco Enrico e di Pantaleo Piccino, presidente di Coldiretti Lecce, le relazioni di Elio Pindinelli, storico, Maurizio Servili, dell'Università degli Studi di Perugia, Pietro Sandali, direttore generale Unaprol, Amedeo Maizza, preside della Facoltà di Economia dell'Università del Salento e i contributi di Gianni Cantele, presidente Coldiretti Puglia e Fabrizio Nardoni, assessore regionale alle politiche agricole. La fitopatologia in atto nel Salento non ferma il percorso all'insegna della qualità degli oli extravergine. Mai, come in questo periodo, gli oli del Salento conquistano tanti riconoscimenti, dal sirena d'oro per i DOP, all'oro d'Italia, all'oro capitale, al podio francese per un olio made in cutrofiano e tutto un luccichio di medaglie per i produttori del tacco d'Italia. Pantaleo Piccino, presidente di Coldiretti Lecce, racconta che dieci anni fa, quando l'olivicoltura salentina era ritenuta per tutti un bagaglio ingombrante che non si sapeva dove collocare, un manipolo di imprenditori ha deciso di incentrare i propri sforzi su nuovi percorsi di impresa che spesso concidevano con nuovi percorsi di vita. Questo succedeva quando l'olivo era un tema che non interessava né ai media né alla società civile. Un percorso accompagnato da Coldiretti con passione, impegno e visione del futuro e che oggi si consolida sulla certezza di una qualità ormai riconosciuta all'unanimità. Questi imprenditori, conclude Piccino, hanno fatto da traino ad una serie di imprese generando un modello virtuoso che sta rivalutando l'olivicoltura salentina e non sarà certo la Xilella, per quanto fastidiosa, ad arrestare questo processo.